L'anno che sta per concludersi è stato segnato purtroppo da un moltiplicarsi di conflitti violenti, sia bellici sia terroristici. D'altra parte, questa situazione sta provocando sempre più nelle coscienze più mature una reazione non violenta ma spirituale e morale. Con queste parole Papa Francesco ha accolto in Vaticano i nuovi ambasciatori di Guinea, Lettonia, India e Barenna. In occasione della presentazione delle lettere credenziali, il Pontifici ha rimarcato l'importanza di collaborare insieme per promuovere nel mondo una cultura della solidarietà che possa contrastare quella globalizzazione dell'indifferenza che è purtroppo una delle tendenze negative della nostra epoca. Dinanzi a un umanesimo squilibrato, Papa Bergoglio ha chiesto di compiere gesti concreti in favore di quanti soffrono per la mancanza di lavoro, terra e di un tetto. Ha auspicato che tutte le nazioni possano intessere relazioni fraterne con la consapevolezza di far parte tutti della stessa famiglia e che ci sia maggiore attenzione per i temi ambientali.